Signore e signori, mettetevi comodi, sta per iniziare la cerimonia di annunciazione delle nomination dei premi Silvester 2024. Sigla! Così, dritti al punto. Un saluto calcista a tutti. Stasera abbiamo un sacco di cose da farvi vedere. Il nostro infiltrato è riuscito effettivamente a procurarsi in anticipo le nomination dei premi Silvester che, come sapete, verranno diffuse pubblicamente domattina. Ma noi abbiamo un infiltrato nella redazione dei premi Silvester, nella Silvester Academy, che ci ha effettivamente consegnato in anteprima, esclusiva. Lo sappiamo solo noi stasera, stasera non lo sa nessun altro. Sappiamo le nomination dei premi Silvester. Siamo qui a dirvele in Eurovisione. In realtà, anche di più. Anche di più, sì. Però a me piace Eurovisione, non so perché. Va bene. Però anche di più, perché non mi volevo sbilanciare. Poi in realtà io sono fuori dall'Europa, quindi no. Comunque, che bello essere in tanta compagnia. Ci sono io, il dittator Nannico Bretti, con me, Costanlio Kubrick, il vesto ufficiale, l'otto che legge le nomination, e Terrence Maverick, grandissimo, che è già pronto a consegnare Silvester, anche se stasera non ne consegniamo. Sì, esatto. La scera leggiamo le nomination e basta. Però apprezzo molto l'entusiasmo. Lui viene dal futuro. Sta già preparando. Molto bene. Allora, cominciamo. È peggio di Sanremo questa cosa, veramente. Tante cose da fare, una scaletta complicatissima. Ma al contrario di Sanremo, ci sono anche gli abbonamenti. Sono anche gli abbonamenti, esatto. A Sanremo non si abbonano nessuno. Invece da noi sì. E quindi cominciamo con la burocrazia bella, cominciamo con il ringraziare per l'abbonamento di livello 1, Mal Weathers, che si è abbonato per, ci svela la nostra gentile valletta Mobot, si è abbonato per un anno consecutivo, a te la dittatoranza onoraria di Valverde. Siamo assolutamente onoratissimi. Grandissimo. E poi si è abbonato Dumbolic per il diciannovesimo mese consecutivo. E quindi, altra cosa che non succede a Sanremo, parte uno schiaffo su Anuca Timoteciamento. Sanremo, arrivano gli ospiti, però gli umiliano con il ballo del Quaqua e non con gli schiaffi sulla nuca. Secondo me gli schiaffi su Anuca suono un po' più dignitosi, devo ammettere. Decisamente. Secondo me il prossimo ad abbonarsi a questo punto sarebbe Pevesicchio, sarà stupendo. Sarebbe bellissimo, esatto. E invece il prossimo è il Gerva che si è abbonato per sette mesi consecutivi, siamo assolutamente onoratissimi. Vi spieghiamo come funzionano gli abbonamenti, gli abbonamenti funzionano così. Ci fate molto felici, fate felici le vallette di Valverde che sono, stasera ci sono tutte, c'è Tulsa Doom, c'è Caprunti, c'è Caprunti, è già prontissimo. Angela Doom, che grandissima, che bella che è. E poi lì manca il mio Paolo Gucci. Poi abbiamo anche Maverick, sempre con l'occasione importante, non manca mai. E Nolan che non è mai contento. L'altro stupendo, con la formazione A4 sembra che le vallette sono in live con noi. Esatto. Ti nascondi dietro di loro e sembra che sono in collegamento pure loro. Inoltre, gli abbonati non vedono la pubblicità durante la diretta, che questa sera è particolarmente importante perché andaremo velocissimi. C'è il rischio che durante una sola pubblicità vi prediate almeno tre nomination o qualcosa di già. Tra l'altro non è che non vedono la pubblicità perché non viene trasmessa, ma perché perdono temporaneamente la vista quando ci sono gli spot. Non la vedono esatto, nel senso che viene trasmessa in quel momento lì. Quindi non vi allarmate la prima volta che vi abbonate, che perdete temporaneamente la vista, ma dura poco. Ma soprattutto, se siete abbonati al nostro canale di Twitch, il vostro voto al premio Jimmy Bobo vale doppio. Questa sera è molto importante perché questa sera, in anteprima europea, o di più, assegneremo in diretta proprio questa sera il premio Jimmy Bobo 2024. che dovrete scegliere fra i migliori premi Jimmy Bobo che abbiamo votato durante l'anno. Abbiamo scelto un gran numero di candidati e sarà un massacro, sarà un massacro. Io vi consiglio, se volete essere sicuri, valga doppie conti più degli altri, privilegiati proprio, abbonatevi che ci sono un sacco di bottoni tra cui scegliere. Molto bene, io direi a questo punto di passare al dunque. Quindi cominciamo con la prima categoria da premiare, che a sorpresa è i migliori costumi, che non abbiamo mai fatto. Abbiamo i migliori costumi. Abbiamo a presentare migliori costumi, niente a meno che Caprotti. Facciamo entrare Caprotti. Bellissimo. Grandissimo Caprotti. Grande Caprotti. Caprotti. Vabbè. Non lo facevo così, nerboruto. No, è così, ha fatto palestra. Se lo comportiamo rispetto a quando faceva Ken Protti, perché abbiamo anche un Ken Protti qua. Cioè, Ken Protti è un po' troppo quest'estate, però lui è migliorato. No, no, dopo si è messo giù, ha chiamato un personal trainer e quello è il risultato. Ha fatto un figurone a quell'altra cerimonia di poco conto. Però devo dire che le Birkenstock rimangono sempre un tocco di cattivo gusto. Conto colpaccio. Grande Caprotti. Sempre l'espressione umile comunque. Sì, sì. In realtà non c'è nessun premio per il miglior costume. Caprotti voleva una scusa per farsi vedere. È un po'. Esatto, passiamo alla prima vera categoria. Ne abbiamo tantissime. La prima vera categoria sono il premio per la miglior creatura. Io direi come da tradizione di farlo assegnare a rappresentante di mostri grossi, Staglio Kubrick. lo presenterò nella lingua corrente con cui ci esprimiamo, ma immaginate che in realtà queste nomination siano presentate con ruggiti e altri versi, tipo sensibili. C'è un sacco di sensibili tra i mostri, soprattutto gli alieni. Va bene. Ti piazzo io le immagini come le annunci. Ok. Allora, il primo candidato al premio per la miglior creatura di Silvestre del 2024 è Optimus Primal da Transformers, il risveglio. E voilà. Tutto bello cromato. Fantastico. Guardate com'è cromato. Il secondo candidato è invece Cocaine Orso, dal film Eponimo. E... Tanta fama gli ha donato. Grande, grande. Grande sì, ma ancora più grande è il terzo candidato che è il drago sovrappeso di Dungeons & Dragons, l'onore dei dà. Meraviglioso. Ci spostiamo invece su un mostro più piccolo, ma decisamente adorabile, che è Cosmo, il cane spaziale, dai guardiani della Galassia 3. Guardate che good boy che... Good boy. Good space boy. E infine, ovviamente, non poteva mancare lui, il re di tutti i mostri grossi, cioè Godzilla da Godzilla, ma è lo suono. Che bello. Che cosa gli volete dire, purtroppo. Quindi, ricapitolando. Quindi, ricapitolando. Optimus Primal da Transformers 7, Cocaine Orso da Cocaine Orso, il drago sovrappeso di Dungeons & Dragons, l'onore dei ladri, Cosmo, il cane spaziale dai guardiani della Galassia, volume 3, e Godzilla da Godzilla minus 1. Allora, la prima cosa che volevo chiedere è, sono davvero sette i Transformers? Io ho perso completamente il cuore. Stavo pensando esattamente la stessa cosa. Ormai non ci mettono più i numeri, ma solo dei sottotitoli, e quindi nessuno sa più quanti sono. Transformers, un altro. Mi sa che ormai siamo rimasti in pochi a contare effettivamente che capitolo sia. Mi viene in mente che l'unica saga che ancora ha i numeri è Fast and Furious, forse. Sì, esatto. Perché ogni capitolo si riescono a inventare un gioco di parole stupido col numero, e quindi non vogliono precare mai questa occasione. Però mi sa, adesso, se gli spettatori e le spettatrici che ci stanno seguendo in questo momento, quella in diretta, quella indifferita, non siamo indifferenti, ma non mi possono rispondere in questo momento. Secondo me è sette, però conta anche lo spin-off su Bumblebee. Eh, mi stava venendo in mente, ma conta quello, quindi? È canone. Canone è canone. Sì, è canone. Sì, ok, ok. Passate voi, che bel canone, scusate. Non si chiama Transformers 7, comunque si chiama Transformers... Transformers il risveglio. Ah, vabbè, Transformers. Transformers il risveglio. Va bene, direi di procedere spediti. La prossima categoria... Ovviamente non dovete votare adesso, eh, per... No, non dovete scrivere i numerini da uno... Non lo scrivere, ma dovete solo segnarvi su un foglietto, se volete. Dovete segnarvi su un foglietto, dovete cominciare a pensare a chi volete votare, potete cominciare a dire Ah, però non avrei mai pensato che verrebbero candidato questo, oppure avete dimenticato, però se abbiamo detto qualcosa dovete mettere per voi. Oppure, niente male per la body positivi di Il Drago Obeso, mi sa che... C'è rappresentanza per tutto, insomma. Certo, certo. Poi non è che Godzilla sia smilzo, eh, cioè diciamo, insomma. Eh, è vero, è anche quello. Vabbè, niente, detto questo, passiamo alla prossima categoria, ne abbiamo davvero tantissime. La prossima categoria che vi presentiamo è quella per il miglior atleta e io la farei leggere a luotto. Ci sono. Ci sei? Noto atleta, sì. I candidati al Sylvester per il miglior atleta sono Donnie Yen in John Wick 4 e in Sacra. Bravissimo. Marco Zaror in John Wick 4 e Fist of the Condor. Eccolo. Grande, grandissimo. Scott Adkins con la sua tuta da ciccione in John Wick 4 e un altro giovane, Shah Rukh Khan in Patan, hanno tutti più di 60 anni i candidati al migliore atleta. E per finire, Veronica, no in Furies. Non stavo facendo lo spiritoso, stavo cercando di pronunciarlo giusto, comunque credo sia no, no in Furies. Purtroppo non ti posso aiutare perché non ho la più, non ho idea, non so il vietnamita. Però la mia domanda è, secondo voi si dice tuta da sovrappeso? Come si dice? Non lo so. Fatsuit. Si dice cattiva idea. Si dice cattiva idea in genere. Questo sì, però sinceramente non ho la più pallida idea. Cioè io da quando, cioè, da quando hanno inventato questo marchi ingegno per... Che è sempre chiamato Fatsuit. Esatto, è sempre chiamata così. Non so se ci sono delle tute che si offendono, se le chiami... È veramente una domanda difficilissima. Comunque per... Il Gereva propone Cicciotuta che mi piace. Giusto. Comunque per ricapitolare. Per ricapitolare. Donnie Yen, John Wick 4 e Sacra. Marco Zaro in John Wick 4, Fist of the Condor. Scott Atkins in John Wick 4. Shah Rukh Khan in Patan. E Veronica Ngô in Furies. Fantastico, fantastico. Tutta Brandon Fraser, accidenti. Eccolo, sì. Ecco. Tutta Brandon Fraser, ci sta. Grazie Andy. Tu Fraser e questo è un altro. Oppure, visto che il suit sarebbe abito più che tuta, giusto? Esatto. Potrebbe anche... Il grassabito, tipo. Il grassabito, ma... Cos'è, sembra una roba da Harry Potter. Sì. Bella, è una cosa che ti... Allora, continuate a suggerire... Se la metti addosso diventi... Si inizia a sudare, stai male, non puoi scarpare da... Esatto. Cioè, ti si alza proprio il colesterolo per dire... Ti ho la cacciola indossare. Il ciccio buon d'abito. Continuate a suggerire nei commenti come chiamare la tuta da ciccione in modo corretto. Così io poi li leggo e è tempo che li scriviamo domattina, lo scrivo giusto. Perché abbiamo questo vantaggio e ne godo. Va bene. Detto questo, la prossima categoria... Per la prossima categoria abbiamo, a sorpresa, una categoria filmata. Che bello, mi sento molto mai boggiorno, scusate. Il prossimo indizio è che partiamo il filmato. Partiamo il filmato. Esatto. E poi parte Ride In della Yellow Magic Orchestra. Che bello. La prossima categoria è il miglior combattimento. Lo facciamo annunciare dal nostro Terrence, direi. Ok. E partiamo con il contributo filmato. Via! 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 Allora, abbiamo Fist of the Condor, il combattimento tra Condor contro Calari, dal film Fist of the Condor. Poi abbiamo Fassbender contro Il Bruto in Florida, dal film The Killer. Poi abbiamo Kino Reeves contro il nostro amico Scott Hattins in una tuta da ciccione da John Wick 4. Poi abbiamo il meraviglioso scontro tra Sorelle, la Polite Society. E poi abbiamo Hayat Devn, Contridente contro tutti, la Pola. L'ultimo sono andato molto in difficoltà. Mi fai venire dei dubbi veramente infiniti, perché troppo c'è anche un nome che leggo e mi hai ricordato che non l'ho mai sentito pronunciare. Chiedo scusa, sicuramente l'ho pronunciato male e avrò pronunciato male anche il nome del film, sicuramente. Nessun problema, tanto c'è scritto, si è visto il filmato, si è capito chi è. Tu come lo pronunci, Nanni? Nella tua testa è un conto, perché anche io nella testa lo pronuncio Devgan. Però, dico, se dovessi andare di fronte a una enorme folla e dire solo le due parole... Io lo pronuncio Avril Lavigna. Io lo pronuncio Avril Lavigna. Ah, ok. Però potrei sbagliarmi anch'io, non garantisco. Comunque, ricapitoliamo. Vai, Taran's. Allora, ricapitolando, abbiamo il combattimento tra Condor e Calari, anche qui spero di averlo pronunciato bene, dal film Feast of the Condor. Poi abbiamo Fassbender contro il Bruto, dal film The Killer. Poi abbiamo Kino Reeves contro Scott Adkins, da John Wick 4. E poi abbiamo il litigio tra sorelle, dal film Polite Society. E infine Ajay Devnug contro tutti, dal film Bola. Però non è male neanche l'idea di dirlo diverso ogni volta che lo pronunciamo. Non è male neanche quello. Che bello. Sono molto contento. Allora, un'altra cosa che volevo far notare è che in realtà il personaggio di Marco Zarro in Feast of the Condor non si chiama Condor, si chiama solo guerriero, però sinceramente lui fa l'arte martiale del pugno del Condor. Il film si chiama Pugno del Condor. L'altro personaggio si chiama Calari perché fa effettivamente l'arte marziale del Calari. Per cui io l'ho chiamato Condor. Mi sembrava giusto così. Scontro tra stili. Comunque, va bene. Direi di passare alla prossima categoria. Stiamo andando veramente a razzo, ma è giusto così. La prossima categoria direi che tocca a me a questo punto. Mi sono tenuto la migliore di tutte, la mia preferita in assoluto. Penso anche quella preferita da tutti quelli che ci ascoltano. Ovvero il miglior manzo. Storicamente è la categoria più votata da 15 anni. Per il miglior manzo abbiamo innanzitutto Keanu Reeves da John Wick 4. Ci andrà giusto. Poi abbiamo Michael B. Jordan da Creed 3. Immancabile. Abbiamo un altro bellissimo giovanotto. Shah Rukh Khan da Patan. Che ha 26 anni. Come si vede da questo. In realtà sono 62. Però va bene anche con tra 26. Abbiamo un altro giovanissimo. Un altro che piace. Un altro che sta sempre sulle copertine di Cioe. Soprattutto in questi tempi. Idris Elba in Luthor. Mi si spiega che il titolo italiano di Luthor è Luthor verso l'inferno. Un titolo veramente orribile. Luthor. Mamma mia. Infine un altro che non manca mai nelle nostre Silvester per la categoria del miglior manzo. vero Chris Hemsworth in Tyler Rake 2. Altrimenti nota anche come Extraction 2. Che si è tagliato facendosi la barba come si vede da quella foto. Sì. Ah sì. Talmente massimo. Lui impara a farsi la barba in metropolitano. Per ricapitolare. Silvile. Che bello. Fantastico. Molto contento. Questa è una categoria che è sempre, ogni anno, sempre più solida. È una garanzia. Molto bene. Continuando. Andiamo in ordine. Il prossimo premio viene da sé. Il miglior gnocca. Vai Staglio. Il miglior gnocca. Il miglior gnocca. Che è il premio. Tu diresti la premia della miglior gnocca. Guarda, non tocco questo argomento neanche da lontano. Quindi come dite voi va bene. Posso lamentarmi con la lingua italiana che questa cosa le complica il triplo del necessario. Vorrei fare Silvestre in inglese. Sarebbe molto più facile. Però ci tocca. E così va. Prego Gentile Staglio. Bene, bene. Fermati. No, mi sono appena accorto. Allora, la categoria è giusta. Mi sono appena accorto che non mi ha caricato una delle immagini delle candidate che non mi sembra assolutamente giusta. Speramente le carichi. Io annuncio molto lentamente. Allora, aspettate. Mi tocca fare l'alvoro. Queste cose a Sanremo non succedono. No, ma io stiamo per annunciare le cinque candidate. Ah, vedi? Non me la lascio aggiungere niente. Allora, una delle candidate ve la dovrete immaginare. La vedrete. Ve la sarete comunque già immaginata. Su tutte le immagini che si poteva settare proprio... Va bene, dai. Ok, parti con il miglior gnocca e poi quando non c'è l'immagine... Guardate me, fate finta che io sia questa persona. La prima candidata al premio miglior gnocca è Silvestro 2024 è Ania Taylor CGI per The Menu. Eccola qua. Eccola qui. Ciao, Ania. Basita e un po' emozionata di essere stata candidata. Il secondo nome invece è quello di Daniela Melchior per Fast X ma anche Marlowe. Ce l'abbiamo. C'è poco... Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che la terza candidata è Mia Got per Infinity Pool. Che non ce l'abbiamo. Che è esattamente qua. Esattamente quella gru... Quella pincazzona. Eccola qua. Immaginate che io sia Mia Got. Queste cose per il premio miglior manzo non succedono però, eh. È una bella... Ci sono dei premi privilegiati rispetto ad altri. La quarta candidata invece della quale credo avremo un'immagine è un altro nome che io trovo difficile da pronunciare perché è POM Clementif o Clementief o Clementieff da Mission Impossible Dead Reckoning. Eccola qui. Tutta la sua algida bellezza. E infine per i Mercenari 4 Megan Fox. Ecco. Eccola qua. Sempre delicata e delegata. Come... Quindi ricapitolando le cinque candidate prima per Mignognoca sono Ania Taylor-Joy per The Menu Daniela Merkel per Melchior per FastX e Marlo Mia Got per Infinity Pool che qua potete vedere POM Clementif per Mission Impossible 7 e Megan Fox per i Mercenari 4 In effetti c'è una categoria per il premio più stupido per il titolo più stupido dell'anno titolo di franchise famoso più stupido dell'anno gioco di parole con numero nel titolo più stupido dell'anno esatto esatto vabbè ci sarà ci sarà modo la prossima categoria è un'altra categoria con il filmato e insomma non le farei farei tutte a terra questa facciamo fare l'otto ha ok allora fammi preparare fammi preparare il filmato la categoria il premio spacca tutto la categoria per la miglior scena in cui vengono spaccate tante cose altrimenti noto come il premio per la miglior scena spacca tante cose esatto via con il filmato miglior scena spacca tante cose i candidati per il premio Silvestri al 2024 sono il massacro nel traffico all'arco di trionfo in John Wick 4 il finto piano sequenza di menare in Tyler Rake 2 Godzilla rade al suolo Ginza in Godzilla Minus Abends la scena del treno in Mission Impossible Dead Reckoning la scena del treno in Patan chi vincerà? grandissimo lotto mi intendo tu ci dici ma com'è finto piano sequenza beh sì guardalo e ti assicuro anche lì grandi decisioni scrivo piano sequenza e basta e poi mi faccio una sequenza di commenti che mi dicono ma è finto oppure scrivo che è finto però rischio che lo sottovalutate è finto è finto ma questo non vuol dire che sia brutto Marco Holland dice vanno forti i treni quest'anno in realtà è da un po' che i treni vanno forti parecchio tempo da quando li hanno inventati alla fine magari i primi non hanno forti è un po' il loro mestiere diciamo se andassero piano non li prenderebbe nessuno se andassero piano arriverebbero in orario comunque ricapitoliamo John Wick 4 la scena all'arco di trionfo Tyler Rake 2 il finito piano sequenza Godzilla Minus One che prima ho chiamato Godzilla Minus Abends perché è una cosa che mi fa ridere e quando rade al suolo Ginza Mission Impossible 7 la scena del treno Patan la scena dell'altro treno faccio notare veramente che ve lo giuriamo le ultime due foto sono da due film diversi anche perché cioè alla fine non ci sono molte cose spaccatuto che si possono fare su un treno in corsa se non appunto correre nell'altro senso mentre quello sta precipitando aggiungerei purtroppo sono da due film diversi perché perché un bel crossover sarebbe molto bello che spettacolo che spettacolo va bene direi di andare avanti procediamo super spediti la prossima categoria è il miglior ma cosa io ho perso il conto di chi sto facendo leggere le cose qualcuno si offre ma allora toccherebbe come vogliamo ragazzi possiamo girare a culo qualcuno io voglio vai vai terrensi ma cosa è tu allora posso andare vado allora il primo ma cosa abbiamo chris mcneill ha studiato tutti i riti di esorcismo di tutte le culture del mondo ma si fa fregare in tre secondi come una nubba dall'esorcista il credente la credente che in questo caso è la credente la credenza la credenza poi abbiamo la moglie incinta io direi la credulona direi ecco questo è il vero titolo è vero poi abbiamo la moglie incinta del super agente infiltrato nella resistenza è la leader della resistenza ma lui non se n'è accorto dal film The Creator se il primo che si amete che abbiamo spoilerato un film orribile lo sgrido il film è orribile quindi questa cosa si scopre dopo dieci minuti quindi poi potete smettere di guardare il film tanto le cose che dovete vedere le avete già viste si scopre all'inizio proprio poi abbiamo il kebab piatto tipico della costa amalfitana da The Equalizer 3 ecco il kebab poi abbiamo padre Amort si fa Vaticano Spagna in Lambretta da l'esorcista del Papa questa mi fa morire tutte le volte che vedo questa immagine è un film fantastico poi abbiamo la protagonista di nove anni è interpretata da una 24enne in ginocchio dal film Orphan First Kill questo personaggio ha nove anni nessuno mette in dubbio questa cosa ha nove anni tutti la vedono e dico ah che bella bambina di nove anni e questo ci tengo a ricordare questo confermo che è un film uscito quest'anno e non un film girato nel 73 quando non c'erano gli effetti speciali quando uscerano le bambine di nove anni esatto quando erano ancora nate bellissimo fantastico ricapitoliamo ricapitoliamo allora abbiamo quindi dall'esorcista la scena dall'esorcista il credente o meglio l'esorcista la credulona poi abbiamo il fatto che non si accorge che la moglie è la leader della resistenza dal film The Creator il kebabone da The Equalizer 3 abbiamo la lambretta la lambretta dall'esorcista del papa e quella è una bambina di nove anni da Orphan First Kill che spettacolo va bene passiamo alla prossima categoria la prossima la leggo io la prossima è a grande sorpresa un premio nuovo che introduciamo quest'anno ogni anno mettiamo sempre un premio estemporaneo chiamiamoli così che poi di solito non torna però chissà magari un giorno potranno tornare il premio che vi introduciamo quest'anno si chiama premio very bello ed è il premio alla miglior scena di un film straniero girata in Italia facciamo che mentre tu leggi le nomination noi altri tre facciamo forti urle schiamazzi e gesti allora premio alla scena ti dà morti il primo candidato al premio very bello a miglior scena di un film straniero girato in Italia è l'inseguimento che passa per la scalinata di piazza di Spagna in Mission Impossible Death Reckoning ecco ecco anche se la foto davanti a Colosseo però passa davanti però va giù con un mezzo a motore per la scalinata di piazza di Spagna con la moto della polizia ma in realtà non ci va con la 500 di Lupin Terzo eh ma prima con la moto della polizia secondo candidato al premio veri bello è l'inseguimento che passa per la scalinata di piazza di Spagna stavolta però quello di Fast X di Fast Pure 10 anche qua una foto davanti a quello allora vi posso garantire che sappiamo distinguere la scalinata di piazza di Spagna dal Colosseo abbiamo cercato le immagini sto applaudendo all'atterraggio dell'aereo fantastico il terzo candidato al premio veri bello per la miglior scena che straniero girata in Italia è Indiana Jones incontra Leonardo in Indiana Jones non è non è Leonardo per me è Leonardo dai è la scena migliore del film quella con Indiana Jones che contro Leonardo gli fa 9 per 9 farà 81 cazzo esce la migliore del film ammetto che non mi ha convito però quella scena lì un paio di lacrime le ho versate anch'io col mio cuore di pietra quarto candidato al premio veri bello per la scena di più straniero girata in Italia è l'Altamonte vince la Champions League in The Equalizer 3 meraviglioso non è neanche c'è una coppola UEFA di quelle vecchie al centro l'hanno rubata da un museo locale come la scena finale di scuola di ladri e poi tutto questo grazie a Denzel Washington che in una scena che poi hanno tagliato per questioni di sintesi andava a spiegare una tattica a Mazzarri che Mazzarri aveva l'Altamonte e grazie a lui l'Altamonte vince la Champions League siamo tutti contenti vince sì ok quinto candidato al premio veri bello per la miglior scena di un film straniero ambientato in Italia è padre a mort fa cucù alle suore in l'esorcista del Papa eccezionale film eccezionale film incredibile Russell Crowe ha detto che c'è spazio almeno per due tequel ma di più di più cioè io me aspetto 199 come come promesso quindi ricapitoliamo premio veri bello l'inseguimento che passa per la scalinata di piazza di Spagna in Mission Impossible 7 l'inseguimento che passa per la scalinata di piazza di Spagna in Fast X l'inseguimento che passa per casa di Leonardo in Indiana Jones un fiorino l'alta monte batte il Manchester City in finale di Champions League in Dequalizer 3 e padre a morte dice cucù alle suore in l'esorcista del Papa ma Russell Crowe quest'anno a Sanremo non poteva presentarsi sul palco vestito così e magari arrivare in Lambretta sarebbe stato clamoroso altro che chiedergli la frase scatenata e l'inferno arriva sul palco in Lambretta quello è è il Russell che vogliamo oggi basta essere nostalgici voglio la serie tv è finito Don Matteo c'è un buco nel palinsesto della Rai che va riempito al più presto che lo poteva proporre sul palco era fatta era fatta niente spettacolo siamo gli unici a sognare alla Mangoni va bene andiamo avanti la prossima categoria è un'altra categoria che ha il premio in formato video che vado a preparare immediatamente e direi di farla leggere questa volta a Staglio ok sono carichissimo per il premio per la miglior morte ai Silvestre 2024 andiamo con il contributo filmato via la miglior morte 2024 se la giocheranno questi cinque candidati la nazi ammattata un missile di Sisu guardatelo come cade la cheerleader imparata sulla rete d'assalto di Thanksgiving la tizia che si tira un'accettata in fazza l'ho comunicato telepaticamente come una capretta del bellissimo When Evil Lurks il tizio che si deve asportare un pezzo di cervelletto da solo da So 10 e guardate come lo fa anche Grazia lo fa e infine il tizio malminato col suo stesso braccio di Project Wolf decennenti grandi morti gran belle morti bellissime le andiamo a ricapitolare con una pratica grafica eccola qua eccoli qua il nazi ammanetato a un missile in Sisu la cheerleader imparata sulla rete d'assalto in Thanksgiving la tizia che si tira un'accettata in fazza da poter comunicato telepaticamente con una capretta di When Evil Lurks il tizio che si deve asportare un pezzo di cervelletto da solo di So 10 e il tizio malmenato col suo stesso braccio di Project Wolf Hunting detto questo io devo fare un avvertimento ovvero il filmato che avete appena visto potrebbe essere stato violento e non adatto a spettatori sensibili non provatelo a casa non mandate indietro e riguardatelo se per caso siete rimasti e se siete indifferiti potete scegliere di non guardarlo esatto credo funziona così siete indifferenità e state schippando di secondi in secondi e vi siete persi il filmato e siete sensibili non mandate indietro e guardate il filmato oh che bello stiamo andando veramente velocissimi sono molto contento allora il prossimo il prossimo premio cominciano già ad esserci i premi i premi quelli veramente seri a chi tocca io per sé conto è un po' come la scena quella scena di Fantozzi dove lo prendono a schiaffi e poi Fantozzi dice no la toccava lui mi sento un po' così mi sono perso l'ordine il prossimo premio è il peggiorattorismo chi vuole fare il peggiorattorismo anche il peggiorattorismo non mi ha caricato un'immagine maledizione credo tocchi a me ok va bene se non abbiamo un'immagine ti dico poi quella non abbiamo e poi sempre usare lo stesso trucco di indicarti e fingere di essere esatto vado vai i candidati e o le candidate a peggiorattorismo sono Nicholas Holt in Renfield ce l'abbiamo lui è così tutto il film stanzialmente mamma mia Janelle Monae in Glass Onion non ce l'abbiamo ah no di cazzo ho dei problemi con la destra e la sinistra va bene Monica Bellucci in Diabolic chi sei? è la prima immagine che ho caricato in assoluto quando Bill Scarsgord in John Wick 4 e per finire Ben Affleck in Hypnotic c'è proprio il mento a culo comunque è proprio un culettino sembra quelle rane grasse che ci sono su Instagram ora non si vede però molto comodamente Ben Affleck ha una foto di Janelle Monae in Glasson è molto gentile si è prestato a rimediare a questa nostra mancanza all'ultimo momento per ricapitolare peggiore attorismo Nicola Solt in Ranfield Janelle Monae in Glass Onion adesso la vedete Monica Bellucci in Diabolic chi sei? Bill Scarsgord in John Wick 4 e Ben Affleck in Hypnotic che è una canzone di Alanis Morissette mi pare penso di sì non mi ricordo come facevo chiedere troppo molto bene direi di andare avanti il prossimo premio che meraviglia il prossimo premio allora Terence si è praticamente offerto da solo non so perché niente sono sfortunato con le immagini anche qua ce ne manca una purtroppo ah peccato però il prossimo premio è il cestone d'oro per il peggiore film il cestone d'oro per il peggiore film ecco voi le nomination abbiamo i cavalieri dello zodiaco il film non ce l'abbiamo però siamo noi qua non ce l'abbiamo quindi e poi abbiamo Five Nights at Freddy's eccolo qua questo purtroppo ce lo abbiamo eccolo qua ma questo è sì ho visto gli attori sembra un poster che rende l'idea della bruttezza del film non so dove l'hai trovata secondo me hanno solo appiccicato l'attore su una cosa già esistente non metto un bambino di sei anni però rende l'idea poi abbiamo l'esorcista la credulona eccolo qua e poi abbiamo Ant-Man quantomenia quanto meno quanto Ant-Man quanto meno quanto meno c'è quanto meno c'è un Marvel movie ecco e poi abbiamo questa tanta roba Winnie the Pooh Sangue e Miele Sangue e Merda quindi ricapitolando il grande cestone d'oro abbiamo i Cavalieri dello Zodiaco che qui potete vedere ma secondo me eravamo più belli noi poi abbiamo Five Nights at Freddy's e poi abbiamo l'esorcista il credente nulla credulona e poi abbiamo Ant-Man and the Wasp quantomenia c'è anche The Wasp nel titolo sai che non sono sicuro però va bene sì sì c'è c'è anche The Wasp nel titolo e poi abbiamo Winnie the Pooh Sangue e Miele fantastico fantastico ok andiamo avanti stanno arrivando i premi veramente pesanti il prossimo direi che me lo ciuccio io il prossimo premio è per il miglior attorismo attenzione miglior attorismo ai premi Sylvester 2024 candidato numero uno Dave Bautista per Bussano la Porta guardate che attore di spessore tutti quelli in testa diteglielo in fazza che non recita bene candidato per il miglior attorismo anche Lizzie Kaplan per Cobweb nel ruolo della matta molto brava qua abbiamo pescato un'espressione normale in realtà questa è l'espressione meno matta meno matta che fa in tutto il film al candidato numero tre Olivia Luccardi per Soft and Quiet che voi non ci crederete ma fa addirittura più brutto di Dave Bautista non ciò sarete di questo film sì io l'ho visto io l'ho visto e cazzo ha fatto il gesto così col dito e ci ho guardato eh lo sapevo sapevo che stanno io lo facevo è terrificante andando avanti candidato sempre per il miglior attorismo abbiamo grandissimo Matthew Lillard per non riesco a dirlo Matthew Lillard per Five Nights at Freddy's fantastic è invecchiato ma in realtà non è invecchiato per niente è sempre lui è sempre il miglior attore della storia l'unica l'unica cosa bella di quel film di merda sostanzialmente andando avanti candidato al miglior attorismo ai Sylvester 2024 Alissa Sutherland per Evil Dead Rise che in Italia si chiamava la casa quello nuovo sì l'altra casa l'altra casa la casa un altro reboot questo era il titolo italiano del film fa sempre così Alissa Sutherland nel film ma in realtà no fa un sacco di fazze diverse molto ah ok è più difficile perché deve fare sia la persona normale che quella posseduta eccezionale andando avanti un altro candidato per il miglior attorismo abbiamo già visto Russell Crowe per l'esorcista del paro fantastico fantastico grande prossimo candidato per miglior attorismo Sophie Wilde per Talk To Me in effetti la cosa è decisamente notevole andando avanti altro candidato miglior attorismo Mia Got per Pearl stavolta la foto c'è stavolta la foto c'è questo in realtà è un filmato questo è il filmato del finale sì sì è questo miglior attorismo inoltre Carmine per il film Carmine ma anche perché se vi ricordate il finale di Carmine dove c'è questo primo piano insistito sì sì no non è vero Carmine non è candidato purtroppo anche se sono meriterebbe prossimo candidato è Pierfrancesco Favino per l'ultima notte di una parola che non riesco a pronunciare di Favino amo amore non so cosa significa grande Favino grandissimo infine ultimo candidato per i premi di miglior attorismo e Sylvester 2024 Nicolas Cage per sei film contemporaneamente perché hanno fatto sei film i sei film in questione sono Renfield The Old Way aiutatemi Dream Scenario Dream Scenario Sympathy for the Devil Sympathy for the Devil The Retirement Plan e poi quell'altro dove era appato a zero come si chiamava Stanley l'avevi visto tu sì sono veramente tantissimi che miseria adesso mi aveva in mente forse vabbè l'altro e quell'altro e quell'altro il lato B dell'album di Nick porca miseria Zucchero Filato Nero si chiamava Zucchero Filato Nero vabbè intanto ricapitolo ricapitoliamo miglior attorismo Dave Bautista per Bussano alla Porta Lizzy Kaplan per Cobweb Olivia Luccardi per Soft and Quiet Matthew Lillard per Five Nights at Freddy's Alyssa Sutherland è una neppo baby? non lo so non so non so quanto sia diffuso Sutherland come guagnone per La Casa il Risveglio del Male Russell Crowe Russell Crowe per L'Esorcista del Papa Sophie Wilde per Talk to Me Mia Gott per Pearl Pier Francesco Favino per L'Ultima Notte di Amore Nicolas Cage in Ben Seifing contemporaneamente il sesto si il sesto era Butcher's Crossing Butcher's Crossing quindi Nicolas Cage che era l'altro western cioè sinceramente avremmo potuto candidarlo per un fissolo però lui è è gigante in tutti e sei allo stesso modo era impossibile scegliere avremmo potuto mettere un a caso comunque ripetiamo Renfield dove fa Dracula The Old Way dove fa il cowboy Butcher's Crossing dove fa il cowboy però però è resatto a zero The Retirement Plan dove fa il matto fa tipo John Wick invecchiato una cosa del genere Dream Scenario dove fa Carmine e Simpathy for the Devil dove vabbè non fa veramente il diavolo però fa uno molto matto che fa del gran casino detto questo è il momento è uno dei momenti più attesi è il momento interattivo della cerata attenzione ovvero è il momento in cui premiamo direttamente non vi diciamo cioè vi diciamo le nomination ma le potete votare subito e se siete abbonati il vostro voto vale doppio premio Jimmy Bobo 2024 e questo è Torconestani sì sì per forza è il mio turno e quindi questo no sono un po' la tua sono un po' la tua creatura il mio il mio mostro grosso ah premio Jimmy Bobo 2024 tra l'altro quest'anno presentato da questo T-Rex in 3D di legno da comporre in 29 ce l'ho anch'io mi sa pensate 29 pezzi 29 sì li ho contati tutti e sono effettivamente 29 per cui il premio che noi assegniamo al nome più buffo che abbiamo trovato nelle varie liste dei crediti dei film di cui abbiamo parlato e quindi di cui abbiamo parlato nell'ultimo anno quindi più o meno dalla puntata cosa sono 52 settimane dalla puntata 140 circa in avanti da marzo quando abbiamo segnato il Silvestre nel 2023 fino a la fine dell'anno insomma che però l'anno d'anno di Jimmy Bobo si chiude con appunto la consegna dei Silvestre è un anno diverso come il calendario cinese non c'è la sigla questa volta no perché non è la stessa forse non è una no no in effetti è una sigla andiamo la sigla andiamo la sigla questo è Messi quando ha perso la finale di Champions League contro l'Alta 9 ce l'aveva con dentro il rigore del pareggio al 93 tra l'altro è stata una selezione lunga e difficile eccezionalmente i nomi selezionati non sono cinque ma dieci perché comunque potete immaginare che c'era una tale grazia di Satana che era difficile scegliere e tenerne fuori così tanti ne abbiamo scelti dieci e magari ci sarà anche modo in futuro di celebrare gli altri che non ce l'hanno fatta ma che sono sempre nei nostri cuori con un in memoriam con un in memoriam che non ce l'hanno fatta sì per cui senza frapporre ulteriori indugi e indugiare su ulteriori frappè come diceva non mi ricordo chi andiamo a presentare i dieci candidati al primo Jimmy Bobo 2024 prestigiosissimo con il numero ah giusto dobbiamo anche spiegare come funziona i nomi hanno ciascuno un numerino alla fine della presentazione Nanni vi darà il via col sondaggio voi dovete scrivere il numerino che corrisponde al nome che più vi ha fatto sogginare se siete abbonati il vostro voto vale doppio detto questo con il numero uno per JCVD il direttore della fotografia di JCVD Pierre Yves Bastard proprio lui lui è il personaggio cattivo del film è quello c'è la competizione lui è lo stronzo con il numero due per la favorata agli effetti speciali di Interstellar ed è proprio lui un uomo che non sta mai fermo Don Dolan bello avanti indietro avanti indietro poi uno dei nostri eroi più recenti lavorato al mixer in Ernie Pioggia di Sangue ed è proprio lui quello che neanche sapeva s'entrare in competizione mi ha detto John why not è la fin che l'ho trovato qua addirittura in finale pensate che vita incredibile l'umiltà l'umiltà paga con il numero 4 per Drag Me to Hell abbiamo il bellissimo Godofredo Cattolico è un nome quasi Longobardo impegnativo perché è cattolico è sicuramente impegnativo forse ancora più impegnativo è il numero 5 in Mazinga vs Goldrake Venusia Marziano bello una persona che è anche un inno all'unire culture diverse ora io non voglio contestare la pronuncia però secondo me si conosce Venusia Marziano Marziano Venusia Marziano passiamo dai pianeti agli astri al cosmo al paradiso perché con il numero 6 per Soul 10 Angelica Stirpe mamma mia un Jimmy Bobo biblico Angelica Stirpe sapete gli angeli i biblically correct angels quelli che sono fatti di ruote di occhi io me la immagino così sembra il nome di un disco dei Nightwish assolutamente è vero con il numero 7 una delle nostre grandi eroine che ci ha regalato un sacco di gioia per Conquest è proprio lei Gaia Bulferi Bulferetti non poteva non arrivare in finale la nobile Bulferi Bulferetti con il numero 8 per Captain Alex abbiamo Mazinga Bashir cazzo che effettivamente già chiamare cioè ti chiami Mazinga di nome torniamo nel cosmo in tutti i sensi perché siamo sul pianeta proibito e il numero 9 è Cosmo Sardo me lo ricordo che posto deve essere e il fine con il numero 10 abbiamo un trio il famoso si chiama il trio delle osterie così si fanno chiamare loro per Underworld sono Mark Vigniello Hill Vino e Phil Pino per cui il bannerone che ci riassume i 10 candidati a prima eccolo qua eccoli qua con numero 1 Pierif Bastard con numero 2 Don Dolan con numero 3 John Why Not con numero 4 Godofredo Cattolico con numero 5 Venusia Marziano con numero 6 Angelica Stirpe con numero 7 Gaia Bulferi Bulferetti con numero 8 Mazinga Bashir con numero 9 Cosmo Sardo e con numero 10 Mark Vigniello Hill Vino e Phil Pino Ora ve li mettiamo comodi qui sotto purtroppo a coprire Luot Terrence non c'è problema io e Luot siamo come Matthew McConaughey in Interstellar dietro la libreria no? ok potete iniziare a votare da adesso quindi scrivete nei commenti il numero che corrisponde al candidato che volete votare e possiamo assegnare cioè assegniamo direttamente un premio premio Silvester direttamente questa sera che bello questo è veramente difficile io sinceramente non saprei chi scegliere sono tutti i miei parenti allo stesso modo io ho un paio di preferenze ma non le esprimo perché è giusto non influenzare sai citare così al volo qualcuno scartato da altri vincitori sì abbiamo dovuto scartare Anthony Bagarozzi abbiamo dovuto scartare Chang Ching Peng Chaplin Porca miseria Le Laggi Senosa Togisala Durga McBroom Kent Arallo Rocco Passionino Tony Bellissimo è difficile Wendy Per Due Martin Gillette Oren Peli Wendy Per Due mi piaceva tanto vero Harry Guercio John Capron May Lie Hippies Lecox mi ricordo May Lie Hippies Lecox era una sera che tu non c'eri May Lie Hippies Lecox Freddy Potato Head Rick Figalan e Cazzi Luis Cereghino Jim Self era incredibile Jim Self Donna Dupere e Donna Bat Barbara a Bordo di Cestigno era l'anno scorso credo abbia anche vinto il premio totale Barbara a Bordo è ancora l'anno scorso sì sì Barbara a Bordo totale Dare Innecessary c'era anche il trio delle pippe Pippa Nixon Pippa Andre Pippa Wulz è stato un grande anno di Jimmy Bobo no non abbiamo scartato i migliori abbiamo scartato i migliori tra i peggiori questo è veramente la scienza Luotto buttati tutto sul lato sinistro o destro perché esatto così vi si vede così si crea un buco allora io penso non c'è bisogno che rimani lì era giusto per farla no allora io penso di avere un leggerissimo problema tecnico a cui non avevo pensato ovvero che farvi votare dieci candidati contemporaneamente significa che non riesco a prendere uno screenshot in cui ci rientrano tutti e vabbè per cui ci fidiamo vi prendo una parte di schermo dove si vede chi ha vinto è buona lì e poi dopo vedrete i risultati completi Billy Ballerog chiede di fare le maglie con i nomi con la squadra di calcio avremmo dovuto metterne 11 e poi fare la squadra di calcio allora intanto vediamo se riesco a fare una cosa furba di questo tipo comunque i voti sono ufficialmente chiusi sto per prendere lo screenshot ora fateme prendere uno furbo dove si vede un po' di si vede chi ha vinto direi che questo becca quelli che hanno preso la maggior parte dei voti i voti sono ufficialmente chiusi e adesso con una solita parte di questo io continuo cioè inizio a sentirlo male Nanni mi sentite? ora si era rifinito nel dimenticatoio ok adesso porca di far caricare i voti è un po' brigoso portate pazienza direi che ok qua ce la stiamo facendo eccoci ha vinto il numero due non ci credo chi era il numero due? Don Dolan Don Dolan ha vinto Don Dolan qua c'è la mano c'è di mezzo la mano della chiesa si chi era il numero set? Gaia Bulferi Bulferetti ok ha vinto Don Dolan al secondo posto Gaia Bulferi Bulferetti eccezionale fantastico il risultato inaspettato questo fascino esercitato da Don Dolan proprio non lo capisco no ma cosa non ti fa ridere Don Dolan io vorrei il pupazzino di Don Dolan no no per carità non è che dico siete scemi perché vi piace Don Dolan non capisco l'appeal e così è andata abbiamo assegnato il primo premio Silvester del 2024 è andato a Don Dolan ora capisco è come il prete in altalena Don Dolan sì sì quindi congratulazioni a Don Dolan mi ha fatto ridere quando hai detto il premio è andato a Don Dolan nonostante fosse tipo la settantunesima volta che lo sentivo è raffinato arriva dopo è giusto così questi sono anche poi i vincitori i vincitori cioè la gente ha avuto tempo di affezionarsi a Don Dolan fin da cos'era da Interstellar che era già tipo l'ultima puntata che abbiamo fatto la penultima una delle sì una delle più fresche che ha avuto ha fatto un sorpasso ha fatto un sorpasso a destra clamoroso no è un po' questa così no c'è la memoria corta la memoria storica corta si ricordati questo nome ultimo c'è questa nuova cosa ti dimentichi di come sei arrivato fin lì dove sei grazie a Gaia Bulferi Bulferetti per me è sinceramente meritato comunque congratulazioni a Don Dolan per i premi Jimmy Bobo 2024 direi che è il tempo degli ultimi due premi che non assegniamo a vi diciamo solo i candidati sono i premi più attesi in assoluto chi vuole fare il miglior regista beh tutti vorrebbero essere tutti vorrebbero io vorrei essere il miglior regista io io ok luotto leggi pure il miglior regista direi che sono sono pronto vai vado i candidati per il miglior regista e Silvester 2024 sono Ty West per Pearl eccolo qua Chad Stahelski per John Wick 4 Takashi Yamazaki per Godzilla Minus One John Woo per Silent Night e per finire Yalmari Helander per Sisu ricapitolando capitolando Ty West per Pearl Chad Stahelski John Wick 4 Takashi Yamazaki Godzilla Minus One John Woo Silent Night e Yalmari Helander Sisu allora il premio per il miglior regista è uno dei miei preferiti perché penso che nessuno li abbia mai visti in fata fino a che non li mostriamo in queste foto noi abbiamo mostrato delle foto che non vi hanno detto assolutamente niente non li avete mai visti prima però è prassi beh oddio John Woo magari si a parte John Woo a parte John Woo però coincidenza era anche quello timido che si è nascosto dietro una cineprisa a mitragliatore in realtà Takashi Yamazaki si era visto perché è proprio lui che ha vinto l'Oscar per gli effetti speciali di Godzilla Minus One ci sta ci sta molto bene questo era il miglior regista il miglior film purtroppo tocca a me perché sono il capo penso si si non ci teneva però se no lo diciamo tutti in coro essendo il dittatore annunciare i candidati del miglior film tocca no? i candidati per il miglior film ai premi Silvestre 24 rullo di tamburi anzi rullo di tamburi basta non ho un rullo di tamburi non ce l'ho cominciamo magari no perché ce l'ho nell'altra vedi la goffaggine di questa cosa dunque il primo candidato è The Covenant fantastico come dice la tagline di The Covenant se me la rimetti un bunt un versprechen una versprechtung un memorabile tagline di The Covenant che non a caso parla di uno che fa il traduttore quindi è un testo di Rammstein mi pare esatto come una città anche sottolineare è quello di Guy Ricci non è quello di Renny Harlin di 15 anni fa anche se qui non era male l'accidenti secondo candidato per il miglior film ai Silvestri 2024 When Evil Urks bellissimo bellissimo con la candidata a miglior morte direttamente in Locandina esatto terzo candidato al miglior film ai Silvestri 2024 Sisu eccolo abbiamo già fatto la domanda cosa vuol dire Sisu nei vostri rispettivi dialetti nel mio nulla nel mio vuol dire qualcosa Sise le Sise per cui è un titolo che ho sempre fatto fatica a prendere sul serio però poi ho visto il film Sisu Sisu quarto candidato come miglior film a pre-sivester 2024 Megan questa però è Chiara Ferragni io non vedo l'ora di vedere Megan 2 con Megan con la giacchetta color topo vi chiede scusa adesso adesso mando un'email al regista e glielo suggerisco quinto candidato per il miglior film ai Silvestri 2024 Pearl bravissima grande molto brava sesto candidato al miglior film John Wick 4 è tanta roba ovvio però è meritatissimo cazzo settimo candidato con il miglior film l'esorcista del Papa beh beh è beh inevitabile imperscrutabile una delle grandi sorprese di quest'anno ottavo candidato al miglior film per il Silvestri 2024 è già vincitore di miglior film straniero agli Oscar giapponesi storia vera Mission Impossible Dead Reckoning fantastico nono candidato al premio Silvestri con il miglior film Godzilla Minus One altra bellissima sorpresa di quest'anno infine ultimo candidato al premio Silvestri come miglior film Barbie no era una gag mi faceva così strano passare tutte queste nomination a non vedere Barbie da nessuna parte sentivo un po' sporco a un certo punto però purtroppo non è vero non è Barbie invece un candidato è oddio questo come si pronuncia Schina Marink mi direi di leggerlo come si scrive il paurosissimo Schina Marink con il poster all'incontrario e fin della tagline all'incontrario a tagline all'incontrario quindi ricapitolando e per evitare ulteriori confusioni candidati al miglior film ai premi Silvestri 2024 The Covenant When Evil Lurks Sisu Megan Pearl questi sono tutti i nomi dei personaggi Sisu non è il nome del personaggio però è un concetto John Wick 4 questo è il nome del personaggio lui si chiama John Wick 4 è la quarta incarnazione come i papi l'esorcista del papa Mission Impossible Dead Reckoning che è anche il nome del protagonista esatto Godzilla Minus One che abbiamo finalmente imparato il cognome di Godzilla si chiama Minus One e Schina Marink che è giustamente il nome del protagonista che bello che bello che bello che bella nomination prendiamo due voti ma sono già felice che sia arrivato nella decina finale Schina Marink Schina Marink chat siete contenti e contente che bel popò di nomination vi abbiamo sparato fuori ineluttabile San Francesco del Sino grande Billy numero uno di queste cose senza prevviso sarebbe stato è stato un ottimo film ebbene sì ce l'abbiamo fatta siamo arrivati in fondo non rimane quindi che ricordarvi gli appuntamenti importanti allora andiamo in ordine cronologico sì ragione Marco che mentre leggevi le nominee al miglior film c'è stato un abbonamento allora facciamo le cose in fila e ringraziamo Abel Bilbo che si è abbonato troppo tardi per votare Jimmy Bovo però insomma ha imparato che era una cosa importante facevi due seghe a due cazzi è come cos'è che era ho visto un film di recente in cui c'era questa gag stupidissima era Ricky Staniki Ricky Staniki giusto perché abbiamo tutti visto Ricky Staniki perché c'era John Cena ed effettivamente ne è valsa la pena esatto comunque grazie mille Abel Bilbo per l'abbonamento per il 22esimo mese consecutivo daremo immediatamente uno schiaffo a Timotece e la mentonore ed ecco qua gli udiamo subito con la manina della 36esima camera di Fion un bello schiaffo raffinato e comunque insomma non mancano i ringraziamenti di Tulsa Doom ci arrivederci a tutti Caprom Angela Doom e poi Buff di Paolo Guccio e poi Nolan che insomma no non era Open Hammer non è candidato niente dispiace Nolan purtroppo che puoi vincere tutto comunque in ordine in ordine cronologico domani domani per chi ci sta seguendo adesso forse questa cosa che ho detto non ha senso domani per chi ci sta seguendo in diretta oppure oggi per chi ci sta seguendo domani non ce la posso fare a partire da venerdì 29 marzo potrete votare i premi silvester sui 400 calci l'orario non ve lo so dire perché dipende da quale mi sveglio però il 29 marzo genericamente in mattinata potrete votare per i premi silvester la grande schiacciata di bottoni i premi da premere saranno online li potrete votare ma voi avete appena visto le nomine in anticipo e state partendo in anticipo per decidere quali bottoni spingere e poi a seguire lunedì primo d'aprile niente non facciamo niente riposo è pasquetta e Russell Crowe ci impone di festeggiare non facendo niente non è che è uno scherzo del primo aprile che diciamo che non c'è niente e poi ci siamo noi in diretta con nessuno che guarda esatto che è molto conveniente per l'engagement gli abbonamenti schizzano avremmo potuto fare lo scherzo opposto almeno dove schizzano gli abbonamenti e noi senza che noi muoviamo mezzo dito in realtà faremo il contrario non ci sarà nessuno non venite non ci siamo non bussate non citofonate poi giovedì prossimo che è il 4 giovedì prossimo casca casualmente la puntata numero 200 di 400 live ma è incredibile incredibile il tempo passa veramente in fretta quando in occasione della puntata numero 200 di 400 live ma l'avremmo fatta comunque vi parleremo di un film importantissimo per la cinematografia italiana forse il più importante forse l'unico di sicuro il più importante film di mostri grossi girato in Italia ovvero Ieti il gigante del ventesimo secolo e per l'occasione avremo come ospite speciale Eugenio Ercolani che è già stato ospite da noi Eugenio Ercolani sa tutto di Ieti il gigante del ventesimo secolo per cui è una serata incredibile mi ha anche promesso una sorpresa non posso dire se avverrà lo Ieti di Ieti comunque giovedì prossimo 4 di aprile puntata numero 200 da 400 live ospite Eugenio Ercolani parleremo di mostri grossi italiani Ieti gigante del ventesimo secolo mentre l'appuntamento più importante di tutti l'evento dell'anno è sabato 6 aprile e funziona così così funziona sabato 6 aprile premi silvester 2024 in diretta di persona dal vivo i 400 calci quelli veri a Bologna al cinema modernissimo alle ore 20 e 30 di sera ingresso gratuito si può prenotare se andate sui 400 calci adesso e andate nella pagina dove abbiamo già parlato dell'evento trovate il link per prenotare i biglietti se andate in alternativa sul sito della cineteca alla pagina del cinema modernissimo di Bologna potete prenotare i biglietti che sono gratuiti per la serata dei premi silvester a seguire la stessa sera quindi alle 22 e 30 sempre di sera proiezione speciale introdotta dai 400 calci in persona di Grosso Guaia Chinatown in lingua originale con i sottotitoli Grosso Guaia Chinatown però non è gratuito perché Carpenter ha bisogno di soldi c'è un piccolo ingresso sono 6 euro per il biglietto intero o 4 e mezzo per il ridotto ore 22 e 30 aggiungerei che vi lasceremo il link in descrizione al video per quanto riguarda la prenotazione del post ve lo lasciamo un po' ovunque sia nel post di domani con le nomination nel link in descrizione qua sul video perché noi siamo indifferenti alla differita e anche sui nostri social lo trovate dappertutto brevemente cosa potete aspettarvi dalla serata dei premi silvestri potete aspettarvi direi che possiamo dire con una certa sicurezza che assegneremo i premi silvestri poi faremo alcuni dei nostri pezzi di bravura ci sarà un momento quiz come in santeria così è una bella serata interattiva ci sarà il cartonato di Timoteci alla mea a cui potete tirare gli schiaffi sulla nuca in persona immancabile una foto opportunity proprio di classe di lusso gli schiaffi dateli piano perché non rompetelo se è uno di tutti ci sarà niente meno che il professor Roy Manarini in persona come guest star ricordatevi di non dare a lui gli schiaffi non dare gli schiaffi non era negli accordi non abbiamo ancora dato questo nonostante lui in si stesse però no non è negli accordi perché non ci teneva a entrare nel mood della serata esatto ci sarà un banchetto di merchandising dove prendere i nostri libri se per caso non ce li avete o prendere le nostre magliette se per caso non le avete già comprate in santeria perché finora le abbiamo vendute solo in santeria poi troveremo un modo di metterle anche online però se le volete in anteprima in Eurovisione venite a Bologna e comprate le persone il banchetto sarà gestito dalla libreria Sette Volpi giusto e che altro no direi che direi che ho detto tutto saremo molto contenti non ci sarà George Romer questo è un altro punto a favore della serata come dicevamo l'altra sera nella puntata con George Romer lo svergogneremo in pubblico si c'è un pezzo di bravura dedicato solo a svergognare George facciamo il roasting in sua serie con tumacia no venite numerosi però notate accaparratevi il vostro posticino per il vostro bel culetto e venite numerosi che ci divertiamo con i vostri amici esatto ditelo a tutti che ci divertiremo un sacco esatto anche perché vorrete sapere come va a finire la puntata di oggi cioè oggi vi abbiamo detto la prima parte la seconda parte vorrete sapere come andrà a finire lo saprete prima di tutti non capita tutti i giorni che possiate venire a una cerimonia di premi silvestre in 15 anni è successo una volta sola una volta e poi c'è stato una pandemia subito dopo perché noi per scaramati abbiamo il tuo posto per skinemarink ci sono varie domande per la precisione di due domande molto volentieri Vigo vuole sapere se c'è cicciolina sorpresa ok e poi era anche qualcuno voleva che gli si ripetesse se effettivamente grosso guaio è in lingua originale con i sottotitoli ripeto che sarà in lingua originale con i sottotitoli mi è stato garantito soppure feci quando ho chiesto per la cinetica tutti i film in lingua originale con i sottotitoli è giustissimo giustamente cioè non era una domanda che avrei dovuto fare però è giusto l'ingua originale con i sottotitoli e basta dire che abbiamo detto tutto e quindi non rimane che ringraziarvi tantissimo per averci seguito in diretta ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito ringraziamo tantissimo quelli che ci hanno seguito in differita non siamo assolutamente indifferenti alla differita ci dispiace soltanto che non potete votare perché ormai abbiamo già votato noi ringraziamo Cristian Liprandi e Dario Cogliati per la videosigla ringraziamo il maestro Ludwig van Verhoeven per la tenodia per le vittime di Valverde ringraziamo il nano war of steel per la sigla classica dei 400 calci e anche ovviamente lo strumentale che avete sentito nei nostri professionalissimi video e ciao buonanotte buonanotte grazie a tutti grazie a tutti Grazie.